Salve ragazzi bentornati su Dungeons & Cutsage, sono qui soltanto per dirvi che inizia adesso la serie dedicata al Dungeon Master. Sto registrando oggi alle 23.32 del 2 giugno 2020, ragazzi, serie dedicata al Dungeon Master, arriveremo a creare una campagna qui. Noi vi mostrerò come si crea una campagna, vi mostrerò come si crea un'autoconclusiva, parleremo della narrazione, della trama, dell'ambientazione, parliamo della gestione del tavolo, la gestione dei giocatori, la gestione dei PG, degli NPC, dei mostri, vi spiegherò come si calcola il grado di sfida, come trovare il mostro adatto, equilibrare gli scontri, eccetera, eccetera, e lo faremo insieme, in diretta. In questa maniera ragazzi toglieremo ogni dubbio e partiamo dalla base, ok? Come si crea? Vi mostrerò il mio, il mio metodo, che non è detto che sia il migliore tra tutti, ma è quello con cui mi trovo meglio. Durante gli anni sono arrivato a semplificarmi il lavoro tantissimo, ottenendo dei risultati massimi, ok? Quindi ragazzi, questo è soltanto un video introduttivo, iniziamo con dei consigli. Quindi, su Dangerous and Cazzage non ci si annoia mai. Dangerous and Cazzage, yes! Dove il tasto è qui, yes! Ciao!